La Prima Guerra Mondiale li aveva visti estinti dal Monte Grappa, poi a metà degli anni 90 il progetto di ripopolamento, nato dalla provincia di Belluno con la collaborazione della riserve di caccia del Feltrino e di Cortina con 28 esemplari. Ora il numero di camosci sul Grappa ha superato quota 500 unità e lo sguardo si rivolge ad altri temi, non più la sopravvivenza ma i cambiamenti e comportamenti di questi animali in relazione ai cambiamenti climatici. Parte così un progetto di monitoraggio finanziato dal PNRR e che fa capo al Centro Nazionale per la Biodiversità. Durerà tre anni e vede coinvolte le province di Belluno, Treviso e Vicenza con le loro polizie provinciali, la Regione Veneto e l'Università di Sassari. Gli obiettivi sono quelli di capire come il camoscio in ambienti di bassa quota riesca a gestire l'incremento delle temperature cercando le zone dal punto di vista termico più adatte per termoregolare. Questo è particolarmente interessante in un ambiente dove esiste anche il suo predatore naturale, cioè il lupo. Il progetto prevede il monitoraggio con radiocollare di 25 camosci e di 5 lupi, così da capire gli spostamenti e il posizionamento reciproco degli animali nel territorio del Grappa. Un'area particolarmente ideale per questo tipo di ricerca per la quota, l'ampiezza e la vasta copertura di bosco. È un ambiente ben popolato da camosci a bassa quota con una forte presenza di foreste che è l'elemento che pare, permetta ai camosci di sopportare meglio l'aumento della temperatura. Nel contempo è un ambiente in cui esistono altri elementi naturali, come appunto le ricordavo il lupo, che danno una maggiore naturalità all'ecosistema nel suo complesso. La Polizia Provinciale di Belluno sarà impegnata con tre tiratori e tre osservatori della squadra catture, che provvederanno a individuare gli esemplari da monitorare, campionandoli per sesso ed età. Lo studio è particolarmente importante perché l'adattamento delle specie animali ai cambiamenti climatici non è immediato e si stanno già registrando quindi in tutto il mondo modifiche nei comportamenti animali. Un grosso cambiamento in senso distributivo, per cui le ha le specie legate a temperature fredde che salgono sempre di più in montagna. Diminuzione di peso, aumento della mortalità e riduzione anche consistente di popolazioni che vivono in situazioni limite.